Primo stop a neppure tre settimane dalla riattivazione della circolazione ferroviaria tra Tirano e Colico, circolazione sospesa per i tre mesi estivi, come da tre anni a questa parte, per l'effettuazione di lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Stavolta però i treni non circoleranno tra Tirano e Morbegno. Lo stop prenderà il via un minuto dopo la mezzanotte e si protrarrà fino alle 23.59 di domenica 29 settembre. E anche in queste tre giornate del fine settimana il motivo della soppressione delle corse, che saranno ma non tutte sostituite da viaggi in pullman, è legato a operazioni di rinnovo binari che saranno eseguite da rete ferroviaria italiana. Attenzione però perché alcuni treni saranno cancellati. Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione è disponibile nelle stazioni, sul sito e sull'app di Trenord.